Interferenza delle banche nel mondo immobiliare, un muro che diventa sempre più alto anche per l'operato del governo che ponendo la fiducia sul decreto salvabanche ha impedito la discussione dell'emendamento caldeggiato da FIAP e sottoscritto in maniera trasversale da 70 senatori che chiedevano di separare il lavoro degli agenti immobiliari da quello del credito. Secondo FIAP la richiesta di un voto di fiducia è solo un escamotage reso necessario per consentire anche alla Camera di votarlo in tempo, evitando così il confronto in Parlamento con i rappresentanti eletti dal popolo italiano. Una vicenda questa che ha visto da tempo scendere in campo in prima persona il presidente della FIAP Paolo Righi. Penso che il sistema bancario sia l'ossatura di un paese, senza le banche non c'è industria, non c'è credito, non c'è risparmio. Le banche sono fondamentali, ma quali banche? Le banche buone, le banche ben amministrate devono essere portate avanti e i loro manager devono essere pagati e riveriti come si può dire. Ma le banche che chiudono, le banche mal gestite, le banche dei recenti scandali e anche quelle che oggi chiedono aumenti di capitale con somme a dismisura dovrebbero vedere un pronto intervento dello Stato e delle attività e degli organismi di controllo, cosa che in questo paese difficilmente avviene. Oggi io distingo tra le banche che fanno la banca e le banche che hanno drogato negli anni i loro bilanci con la finanza e poi con l'avvento della crisi del 2008 non hanno più avuto un business sostenibile. In questo caso i 20 miliardi del decreto salvabanche che ricordo pagheremo tutti noi cittadini sono un segnale molto chiaro e mi stupisco che questo governo ancora favorisca quelle banche che anziché finanziare determinate imprese ne prendono il posto. Vedi alcune delle due banche principali del nostro paese che hanno aperto delle agenzie immobiliari facendo concorrenza per noi sleale, ma l'abbiamo detto all'antitrust, facendo concorrenza sleale agli agenti immobiliari. Allora dico ma se un agente immobiliare volesse andare in questa banca aprire un conto corrente o chiedere un prestito sarebbe valutato come un concorrente o come un possibile cliente da finanziare. Un intervento, quello della fiducia, che rende sempre più necessario un tavolo di confronto, così come proposto nell'intervento in aula dal senatore Vincenzo Gibino, presidente dell'osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare, che possa vedere partecipanti governo, Banca d'Italia, antitrust e tutti gli attori del mercato del real estate per disciplinare in Italia l'intervento delle banche nell'immobiliare ed evitare che gli istituti di credito nei prossimi anni possano condizionare sia il mercato finanziario che quello immobiliare, replicando le stesse modalità che hanno causato la crisi mondiale del 2008. Presidente Rinaldo Catalano, primo osservatorio FIAIP di Benevento. Iniziamo a raccontare le tappe che hanno portato al raggiungimento di questa giornata di presentazione. Per la prima volta abbiamo presentato insieme agli associati FIAIP della provincia di Benevento il primo osservatorio immobiliare dove c'è stata una folta rappresentanza delle istituzioni e per la prima volta abbiamo avuto il piacere della presenza del nostro Presidente Ricchi. Sì, è stato molto confortante sentire che anche qui a Benevento il numero delle compravendite è aumentato. Questo vuol dire che comunque la popolazione, i cittadini hanno ancora voglia di investire in immobili e comprendono soprattutto in questo momento di incertezza che allocare i propri risparmi nell'investimento immobiliare è fonte di sicurezza per il futuro, per loro e per le loro famiglie. Per quello che riguarda invece le situazioni proprio specifiche del Sannio, diciamo che è una zona che va a doppia velocità, delle zone molto belle magari dove recarsi ma solo per il tempo libero è da trascorrere, insomma viene in mente Terese Terme, viene in mente Cusano Muti, il parco dei dinosauri, insomma molte belle per il turismo, però quando si tratta invece di fare economia di tutti i giorni, ovvero il commercio magari al centro anche nelle strade più belle della città abbiamo sentito insomma parole difficili di compravendita per quello che riguarda le transazioni per gli immobili commerciali ma proprio perché è difficile fare commercio in città come queste. Il problema dell'allocazione commerciale e quindi della vita dei centri storici è quasi simile in tutta la provincia italiana, il problema è che molte amministrazioni direi quasi tutte anche in città fino ai 100.000 abitanti hanno permesso, 100-150.000 abitanti hanno permesso l'apertura di grandi centri commerciali, hanno praticamente spinto tutta quella che era la vita dei cittadini che acquistavano nei negozi dei centri storici, li hanno spinti verso i centri commerciali, questo da un punto di vista proprio della vita della città ha causato un impoverimento generale. Diciamo anche che abbiamo circa un 65% di pressione fiscale sulle imprese e oggi mantenere un'attività aperta, un piccolo negozio anche nei centri storici è molto molto difficile quindi dobbiamo avere un'altra mentalità, lo Stato deve guardare alle locazioni commerciali in modo diverso, abbiamo già fatto altre proposte, anche molte proposte insieme a Dancia e a Confedilizia a livello nazionale e deve soprattutto regolare le modalità che regolano appunto il commercio. Che dire, i dati della provincia di Benevento, per quanto riguarda le transazioni immobiliari sono in tendenza con quella nazionale, solamente sono in leggero aumento, intorno al 4%, questo a che cosa è dovuto? Al fatto che in questa provincia, oltre alla crisi economica che ha colpito il nostro paese, ci sono state anche delle calamità naturali che ha portato alla perdita di posti di lavoro per tantissime famiglie che a questo punto non potendo più accedere a un credito, le transazioni immobiliari sono state minori rispetto a quelle nazionali. Dall'anno 2013 abbiamo avuto un crollo dei prezzi che si è agito tra il 35 e il 40%, che è continuato ad ascendere anche nel 2014, 2015 e 2016. Oggi pensiamo che si sia assestato. Quindi è un momento buono per investire.